Amiche e amici salve a tutti come sempre ben ritrovati oggi in questo nuovo video vi vengo a presentare un caricabatterie cosiddetto intelligente l'ho acquistato su amazon come tutti i prodotti arrivano in un flash la garanzia sappiamo che è una gran cosa su quel sito ma comunque prima di parlare nello specifico di questo prodotto vi voglio un attimino palesare perché l'ho acquistato ora da diversi anni per non dire da qualche decennio io ho preso l'abitudine di utilizzare un pochino per tutti quelli che sono i miei device apparati o utensili elettrici delle batterie in questo ad esempio per utensili di fai da te beh si va con questi formati dove dentro si trovano delle celle al al litio ma per cosine un pochino più comuni tipo quelli che una volta venivano chiamati walkman o piccoli tricomandi e via dicendo si utilizzano ancora questi formati di batterie che possono essere doppia tripla e via dicendo in vari formati che siano al nickel cadmio o al litio sostanzialmente poco importa si tratta di elementi che si acquistano carichi poi si scaricano e poi puntualmente si vanno a ricaricare con un ciclo bene o male determinato di potenzialità di numero di cicli che va dai 500 ai 700 quindi questo è il numero di ricariche che effettivamente possiamo andare a realizzare ogni qualvolta però andiamo ad acquistare un nuovo prodotto che necessita celle di questo tipo che facciamo andiamo a comprare altre batterie magari dello stesso produttore perché ci siamo trovati bene quindi stesse fattezze e in fase di discarica ovviamente le andiamo a estrarre le andiamo a ricaricare e molte volte si vanno mescolando le vecchie con le nuove anche perché a volte il prodotto che si usa con queste batterie magari si rompe magari per obsolescenza lo mettiamo da parte e così via però ovviamente le batterie le andiamo a conservare di lato perché ci possono servire per altre cose ora fino all'altro giorno io ho sempre usato per ricaricare questa tipologia di batterie questo tipo di caricabatterie questo ad esempio il marcato varta e consente di caricare queste batterie da doppia doppia oppure le tripla a questa addirittura una varta che si va a inserire qui ora quando io vado utilizzando questi oramai obsoleti mi dispiace dire ma comunque perfettamente funzionanti e funzionali caricabatterie il ciclo inizia ma non so effettivamente quanta energia dalla rete elettrica 220 viene riversata all'interno di ognuna di queste celle ci tengo a precisare che queste batterie hanno tutte quante una capienza diversa ci sono da 200 milliampere da 300 da 500 da 1000 milliampere e quindi quando si vanno utilizzare caricabatterie un pochino antiquati ma comunque ripeto assolutamente funzionali come questi qua qua ce n'è un altro beh non riusciamo molto spesso a determinare l'effettiva carica della nostra batteria se non per mezzo di quello che è la misurazione della della tensione in uscita ma questo non significa che la batteria sia realmente piena significa semplicemente che andando a mettere il tester su due poli abbiamo una tensione verosimilmente corretta rispetto a quello che è il valore dichiarato dal produttore ma come fare a capire innanzitutto quando la batteria arriva al 90 100 per cento di carica e quindi andandola a utilizzare su un device ci possiamo aspettare le migliori performance la maggior durata rispetto a un'altra batteria che magari anziché arrivare al 90 100 per cento si ferma un 20 30 per cento e quindi sostanzialmente inizia ad essere anche una batteria che in base ai vari cicli che ha fatto e partite insomma la vecchiaia insomma anche lì colpisce beh per determinare la bontà di questi elementi ho acquistato proprio questo prodotto perché innanzitutto perché questi questi caricabatterie tradizionali non hanno nessun display se non il più delle volte un piccolo led una piccola lucina che a volte da rossa diventa verde ma a volte la lucina resta proprio fissa perché è semplicemente un indicatore di stato di carica o di stato di compartimento occupato quindi è una lucina che tutto sommato significa poco e niente ora con la nuova generazione di caricabatterie di questo tipo che ora andiamo a spacchettare innanzitutto abbiamo sempre la possibilità di utilizzare vari canali di ricarica e in questo caso la cosa bella che possiamo utilizzare anche i vari canali per batterie di tipo diverso ma qui abbiamo anche un display e oltre al display abbiamo una interessantissima funzione che ci consente in assoluto di migliorare quelle che sono le performance sia di queste batterie ricaricabili a doppia o tripla ma anche di quelle che sono le 18 650 che sono oramai un formato stick di batteria che ha avuto una larghissima diffusione al di là di quelle che sono le sigarette elettroniche anche per apparati tipo torce elettriche o comunque utensili di piccole e medie dimensioni come ad esempio avvitatori e via dicendo ora vi faccio vedere quello che c'è qua compatibilmente a questa tipologia di batterie mentre queste qui insomma le tradizionali per utensili le mettiamo anche da parte non ne parliamo è assolutamente non ha senso parlare di caricabatterie di questa tipologia con display indicatori tutti quanti futuristici per chi ha 3 4 5 6 batterie 6 pacchi batterie per utensili perché qui al di là di quello che è l'indicatore che possiamo scorgere premendo sui vari bottoncini che un pochino tutte quante le case ci forniscono quello che gestisce la completezza di ricarica sono gli stessi caricabatterie che sempre i fornitori forniscono che alla fine vanno in blocco quando la batteria è completamente carica poi la stima della bontà della batteria è anche in questo caso più facile perché se stiamo utilizzando che so un trapano avvitatore o una sega recante questo tipo di batterie ce ne rendiamo immediatamente conto quando la batteria oramai ci sta per lasciare perché magari insomma se prima quando era nuova ci faceva dico un numero 15 tagli una sega ad esempio poi ce ne fa due beh quello è altamente sintomatico di una batteria che oramai pur indicando la completa carica tramite caricabatterie standard della casa oramai ha fatto il suo e poi in questi casi cosa che nelle batterie tipo doppia e tripla non c'è qui abbiamo sempre un prospetto con la data di produzione questo anche è fortemente indicativo di quello che è l'eventuale necessità di riciclo ma ora io mi ritrovo tante di queste batterie di cui senza l'uso di questa carica di questo caricabatterie non saprei andare a decidere quale buttare per obsolescenza e quale mantenere e quindi in questo visto che in realtà di queste batterie ne ho tante di più beh ha senso trova un senso l'utilizzo e l'acquisto di un caricabatterie come questo qua mini boxer c4 smart charger lo andiamo ad aprire e all'interno a differenza di molti altri concorrenti piacevolmente io mi trovo il libricino di istruzioni che qui come potete scorgere voi stessi inglese tedesco bla 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 e bla 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 insomma le ultime due lingue sono poco comprensibili beh qui il venditore ha avuto la fantastica idea di andare a mettere un ulteriore eh deplian interamente in italiano e questo chiaramente è una cosa fantastica perché da qui a differenza di quelle che possono essere scritte in inglese tedesco o cinese mandarino quello che è beh diciamo che trattandosi di un argomento che molti di noi non masticano quotidianamente come l'elettricità la tensione resistenza e via dicendo beh avere il tutto tradotto in italiano è una grande bellissima cosa che sicuramente ci fa capire anche come gestire i due pulsantini e le varie funzioni di questo caricabatterie intelligente avete capito bene qua ci sono varie funzioni impostabili tra le quali addirittura la possibilità in uno dei quattro canali che ora andiamo a vedere di andare a scaricare per intero una batteria di questo tipo eh a zerarla letteralmente e riniziare il processo di carica da zero voi direte ma perché fare una cosa del genere beh io eh una una cosa del genere la trovo utile nel momento in cui devo effettivamente testare la bontà della di una batteria che sospetto sia vecchia perché ha qualche graffia qualche screpolatura eccetera ma voglio capire se ancora la posso usare se la sensazione di poca potenza che dà al device è dovuta non so a una mia ehm impressione soggettiva puramente soggettiva o è proprio eh la la carica eh del del prodotto che oramai eh non funge più e allora andiamo a spellare questo prodotto e vedete qua che cosa c'è quindi quattro canali 1 2 3 e 4 queste sono delle mollettine di ritorno che consentono praticamente di andare ad alloggiare qualsiasi formato di batteria qui ora metto una doppia mi vado a prendere anche una tripla a la vado a inserire così vedete in maniera comunque molto molto semplice e pratica qui ho una 200 una scusate con il 18 650 ma ognuna di queste tre batterie che vado a metter su la potrei mettere in qualsiasi altro alloggiamento e qui ho una batteria non ricarica ricaricabile perché l'ho messa ehm qui in mezzo e ve ne parlo perché questo sì è eccellente nelle sue funzionalità ma a volte io mi ritrovo batterie non ricaricabili perché si tratta magari che so di di un giocattolo per bambini di un telecomando di non so che eh dove già c'erano delle delle batterie inserite e ehm magari non ho eh disponibilità di di altre batterie mie ricaricabili perché posso essere fuori insomma per tante ragioni allora sappiate che molto spesso batterie non ricaricabili di questo tipo possono essere un pochino spinte un pochino ricaricabili ricaricabili un pochino ricaricate con batterie con caricabatterie di questi qua preistorici eh caricabatterie cosiddetti stupidi non intelligenti ecco quindi magari facendo tanta attenzione a una batteria non ricaricabile come come questa l'andate a mettere su un caricabatterie preistorico cosiddetto preistorico e in 10-15 minuti le date una ravvivata per magari farla funzionare un altro poco di tempo se avete a che fare con un bambino ad esempio che vi pretende di eh utilizzare la sua macchinetta eh telecomandata scarica beh il problema lo dovete risolvere perché lì c'è poco da da negoziare quindi a meno che non abbiate disponibilità di una batteria nuova o di una batteria eh ricaricabile carica sono cavoli amari comunque questa è una piccola dritta ora ehm con batterie non ricaricabili però con questo caricabatterie questo stratagemma non funziona quindi occhio perché eh per via di una caratteristica eh di di questo prodotto che riconosce la natura delle delle batterie che gli andiamo a inserire eh il caricabatterie intelligente si rende racconto che questa non è ricaricabile e darà errore quindi non andrà a caricare assolutamente nulla con le altre laddove si troverà una batteria al litio nel display uscirà batteria al litio quindi ce lo indicherà una eh nickel cadmio stesso discorso ce lo va a indicare e quindi inizierà un percorso eh di carica pertinente a quello che è l'elemento che andiamo a inserire nel quarto alloggiamento che pure può fungere da eh alloggiamento per la ricarica può ehm si può programmare la scarica quindi se dobbiamo scaricare delle batterie per poi determinare tramite display qual è l'effettivo milliamperaggio passatemi il termine di carica al cento per cento beh lo si fa soltanto tramite quest'ultimo alloggiamento è una cosa utilissima perché ad esempio se consideriamo una batteria di queste qua ora non vorrei dire una boiata ma facciamo finta che carica 200 milliampere beh ovviamente se la andiamo a scaricare poi nel durante l'atto di ricarica ci rendiamo conto che su 200 ne ha caricato soltanto 50 e la batteria ci risulta piena è una cosa che chiaramente indica un recipiente elettrico che oramai ha dato il suo che oramai insomma da dei valori sballati quindi anche in questo quando andremo utilizzare sul nostro device insomma darà risultati assolutamente contraddittori ora vi faccio vedere un pochino cosa salta fuori quando si collega alla rete elettrica questo apparato così per farvi un'idea e per quanto riguarda invece l'effettiva funzionalità le effettive funzioni del tutto io vi rimando a leggervi quando lo acquistate o se lo acquisterete quello che è il manuale questo deve diventare la vostra piccola bibbia perché all'inizio chiaramente la gestione di questi due tastini può sembrare un attimino strana anche perché poi ora che le andiamo a collegare salteranno fuori tanti valori dove ho messo lo spinotto ecco lo spinotto sta qua andiamo a estrarre e lo colleghiamo alla rete elettrica allora qua c'è questa spina ecco l'altro terminale qua dietro vedete si collega e qua io vado alla 220 voilà si illumina completamente ora vi abbasso un pochino la telecamera per farvi scorgere meglio il display perché quello che fondamentalmente interessa allora devo inclinare eccoci qua ora io il primo secondo il terzo slot occupati il quarto è libero come vedete qui stilizzate ci sono 123 batterie in carica con il segno della scintilla e il quarto è vuoto come del resto insomma potete voi stessi vedere c'è una retroilluminazione del display ora cerchiamo di capire quale sta indicando la c3 quindi questa qua la 18 650 mi indica che è una batteria ho urtato la camera vedete è una batteria al agli ioni di litio da 4,20 volt la c3 questa ed è all'89 per cento qui mi risultano altri valori mi risultano gli ohm il voltaggio e gli ampere di ricarica e qui sotto poi posso scorgere anche i minuti che passano per l'effettiva ricarica ora pigiando questo pulsantino con scritto slot vedrete che la scritta c3 cambia cambieranno anche tutti i valori perché ci rivolgeremo alle altre due batterie quindi questa tripla della varta e questa beghelli doppia a ora pigio passiamo alla c1 vedete che è piena 56 per cento qua mi ha cambiato la tipologia della batteria sempre il tempo visto che le ho fatte partire tutte e tre contemporaneamente resta in comune per tutti e anche qui i valori di tensione e miliampere chiaramente sono diversi trattandosi di una batteria la tripla a con la 18 650 di una natura completamente diversa ora pigio un'altra volta si illumina un'altra volta pigio nuovamente passiamo alla c2 che questa beghelli blu che ora è al 41 per cento due minuti perché nel frattempo che parlo il tempo passa e qui ci sono gli altri valori che potete scorgere di volt resistenza miliampere e via dicendo e pigiando pigiando praticamente mi passa a ruota da dalle varie batterie ora se vado a inserirne un'altra questa dovrebbe essere dichiarata 1500 miliampere vediamo che succede spero che in questo ok ecco è un poco ballerino e supporto ce l'ho fatta ok quindi ora c'è anche la c4 vedete la c4 a le altre nel frattempo stanno caricando il tempo di tre minuti la c4 inizia da 0 quindi anche il timer inizia da 0 quindi della c4 non mi sta dicendo la tipologia di batteria forse non la riconosce bene o probabilmente questa è una delle più vecchie batterie che possiedo già è partita ovviamente la percentuale di ricarica la segna qui ma può essere che per via della sua vitusta insomma non non risultino correttamente i valori del dell'elemento inserito quindi come vedete andando a scorrere c2 c3 arriviamo alla c4 che anche come tensione 1 e 30 insomma mi pare che stia sparando valori un pochino ad cazzo man mano che passa il tempo in ogni caso io considero questo questo apparato molto molto interessante sia come caricabatterie in sé sia come strumento per determinare la bontà dei tanti elementi che uno poi si va ritrovando in casa quindi a un certo punto la spesa si fa una volta sia un buon caricabatterie di qualità e soprattutto sia un prodotto che ti fa capire quali sono gli elementi che oramai hanno sono giunti a fine vita e quindi vanno vanno buttati ovviamente smaltiti nella maniera corretta e quali insomma possono essere mantenuti e utilizzati ancora in casa per le necessità principali quindi io vi lascio in link in descrizione di questo di questo prodotto eventualmente vi lascio anche qualche link delle batterie che di questo tipo doppie tripla che ho trovato diciamo migliori tra le varie provate insomma negli anni poi ovviamente in base alle vostre necessità state voi a decidere cosa vi conviene e cosa no d'accordo con questo un saluto e alla prossima ciao